C'erano una volta i fondi per la realizzazione di una strada che avrebbe migliorato la viabilità di San Marco e che soprattutto avrebbe riqualificato e valorizzato uno degli angoli più belli e allo stesso tempo più abbandonato dal punto di vista amministrativo del comune di Castellabate, il Pozzillo. Inizia così in una nota stampa il consigliere di minoranza del comune di Castellabate Luigi Maurano. C'erano una volta 200.000 euro destinati per la torretta Pozzillo, un'opera strategica, una di quelle opere che fa cambiare il volto al territorio, altro che pavimentazioni e muri di contenimento, ha spiegato. Un'opera che risolverebbe buona parte dei problemi di traffico nel periodo estivo, decongestionando il centro di San Marco e che darebbe nuova luce a tutte le attività economiche e alle famiglie presenti alla località Pozzillo. Nel 2015 invece l'amministrazione prende i soldi destinati dal piano dei lavori pubblici 2009-2011 per la torretta Pozzillo e l'isposta per il completamento di lavori di arredo urbano. In pratica si sacrifica lo straordinario, l'opera strategica, per l'ordinario, l'abbellimento e arredo urbano. In più, proprio in quel periodo, l'amministrazione Spinelli accendeva un altro mutuo di 258.860 euro fino al 2044 per l'arretramento del muro di via Caduti del Mare e la creazione di quei bunker di cemento che ora potete ammirare vicino alla chiesa di Santa Maria, continua il consigliere, a dimostrazione che per il completamento dei lavori di avbellimento e arredo urbano si potevano adottare anche altre scelte ed utilizzare altre risorse. Quindi la strada torretta Pozzillo è stata dimenticata, sacrificata e volutamente abbandonata dall'amministrazione Spinelli, che ancora una volta ha dimostrato di non avere uno sguardo lungimirante e una programmazione basata su priorità oggettive in tema di sviluppo del territorio. Basti pensare che la strada torretta Pozzillo non è nemmeno più presente nel piano triennale delle opere pubbliche 2019 e 2021. Con l'interrogazione di oggi, perciò, si mira a conoscere i motivi di tale scelta e a capire quali sono le intenzioni dell'amministrazione per risolvere i problemi di circolazione della zona e per dare nuova linfa e nuovo volto a uno degli angoli più belli del comune di Castellabate. La proposta, in pratica, conclude il consigliere Maurano, è quella di mettere in campo tutte le energie economiche e tecniche per realizzare la strada torretta Pozzillo.